Studenti senza palestra, insegnanti che si ritrovano a fare i conti con le intemperie meteorologiche. Se da una parte gli insegnanti di educazione fisica dicono sia le lezioni all'aria aperta, tempo permettendo, e sia qualche lezione in classe, in attesa del ripristino della palestra, dall'altra dicono un secco no all'assismo, che fino a questo momento non fanno pensare a nulla di buono. Almeno per ciò che riguarda le scuole panfiloserafine e l'ola di Stefano. Al momento le uniche due palestre a riaprire sembrano essere la Capograsse e l'Ovidio, ma per le altre due pare proprio che i tempi saranno lunghi. E così si solleva nuovamente il coro di protesta dei genitori e degli insegnanti che a due mesi dal primo trillo della campanella si ritrovano a dover fare i conti con lezioni approssimate. Quello che accade in questa città è vergognoso, tuonano i genitori, invece di fare i controlli prima dell'anno scolastico tutto si posticipa al dopo. I nostri figli sembrano quelli del terzo mondo senza nessun tipo di sostegno da parte delle istituzioni. Vogliamo sapere quando potranno ricominciare le lezioni in palestra, come tutti gli studenti che si rispettino, soprattutto in questo periodo invernale, perché hanno diritto all'attività sportiva. Siamo stanchi, continuano di attendere, e con noi anche i nostri ragazzi. Genitori e insegnanti hanno raccolto appieno l'iniziativa portata avanti da qualche palestra privata, cioè quella di mettersi a disposizione degli studenti e degli istituti scolastici, ma purtroppo una sola giornata non riesce a soddisfare i bisogni di 18 classi. Per questo si chiede un ulteriore aiuto a chi potrebbe mettere a disposizione i propri spazi per tamponare momentaneamente la situazione. I genitori hanno ringraziato chi ha avuto la sensibilità di capire il disagio, primo su tutti Marcello Cifani, con la sua palestra ubicata sul viale della Repubblica. La situazione continua ad avere dell'incredibile, tutti si chiedono per quale motivo la città sta cadendo così in basso, soprattutto quando si parla di studenti, lo zoccolo duro della vita sociale cittadina. La riflessione oggi non è a comparti stagni, purtroppo va oltre, guardandosi intorno si vede una città e degli amministratori che non si riconoscono.